Tutti vi ringrazio da parte dell'organizzazione del festival per essere venuti a questo incontro Speciale e ringrazio il gazzettino che sponsorizza questo evento Vorrei che faceste un bel applauso per Alessandro Perissinotto e per Fai Teiniken Parleremo di Noir, parleremo di Noir internazionale, parleremo di uno scrittore tedesco che decide di ambientare le sue storie in Italia E parleremo di uno scrittore italiano invece che decide di ambientarle negli Stati Uniti Allora vorrei partire dal nostro ospite tedesco e fargli una domanda Ma come mai da alcuni anni Fai Te hai deciso di raccontare proprio il territorio italiano E ti sei affezionato in maniera così forte? Ma che vivo qui, buon pomeriggio a tutti No ma io sono legato a questa terra di oltre 40 anni E da oltre un quarto secolo vivo fisso qui Allora scrivo di quello che so Ed è molto banale perché c'è molto da raccontare Soprattutto in questa zona dell'estremo nord-est Zona di confini di tutta l'Europa e nel Mediterraneo E' anche importante perché il mare è un altro simbolo Anche in mezzo di collegamento anche di spostamenti Allora riesco sicuramente a raccontare le vicende europee Ambientandoli nel nord-est Che non è solamente la città di Trieste Di cui ho la fortuna di vivere Se dal Friuli ogni tanto qualcuno guarda stotto Ma viceversa Comunque Cosa sono le città portuali di confini Luoghi di arrivi e patenze Questo è fondamentale E lì nascono le storie Che vengono portate e vengono anche portate via Senti, visto che hai citato il Mediterraneo E le storie che arrivano sul porto Spesso tu vieni inserito In quelle analisi che riguardano il noir mediterraneo Vicino autori come Izzo Come Marcaris Come Montalban Come Camilleri Come Morchio Che hanno raccontato Il territorio internazionale Con lo sguardo sul Mediterraneo Cosa ha portato questo tipo di letteratura al noir Rispetto al noir classico Ambientando in territori dove Il mare tutto sommato non c'è E non c'è quello sguardo E non c'è neanche l'internazionalità Di certi crimini Che si svolgono in queste città Che sono in crocio di culture Credo che per uno sia quest'ultimo Come hai detto Queste sono città particolari Sono luoghi di incontri Di spostamenti Di arrivi di merce e di persone Ma da sempre stati Questo è fondamentale Che anche se oggi Quando si parla di migrazione Si parla di un movimento Che non è neanche nuovissimo Perché anche quello è sempre stato Solo che Mediaticamente Governano adesso altri termini Anche altre paure Che vengono fatte Di essere disturbati Nel benessere in cui si sta Il benessere in cui si sta Spesso provoca anche Una grande ipocrisia Su cose che L'amnesia collettiva Di dimenticare le cose Che sono state Sempre Fanno parte del nostro mondo Poi il genere Io sono romanziere Scrivo romanzi Non saprei neanche Distinguere Non saprei neanche Dove tirare il confine Di questo genere Nominato Di cui tu sei anche Grande esperto Con l'ultima pubblicazione Sul giallo italiano Ma il romanzo Con questo tipo di filo rosso Non so quando È cominciato Sicuramente Non solamente con Jean-Patrick Monchette Nel dopoguerra in Francia Ma sicuramente Se vogliamo Anche se non Nel Mediterraneo Ma nel Mar Baltico Delitto e Castigo Di Dostoevsky Segue esattamente Lo stesso filo E ci racconta Una società Un ambiente Il romanzo Per me È sempre uno specchio Di una società Di un'area geografica E anche Di un'epoca La mia epoca Comincia più o meno Lì Che riesco In quel periodo Che riesco a capire Con la fondazione Di due grandi stati nazionali Che erano quasi In contemporaneo L'Italia e la Germania Peraltro sempre con essi Nel bene e nel male Nelle generalizzazioni Nei pregiudizi Ma anche In qualità di Cooperazione E direi che Questo genere Si può trovare Concentrata Soprattutto Sulle città Del mare Come già detto Con tutti gli arrivi Sia materiali Come umani Che ci sono E questo Grida quasi Di essere osservato E narrato Allora Lui ci ha raccontato Com'è la visione Del noir Sul Mediterraneo Per il sinotto Questa volta Sceglie di non raccontare Né il Mediterraneo Né l'Italia Ma né la congregazione Si sposta Negli Stati Uniti La domanda Che ti vorrebbe fare Il tuo pubblico È perché questa volta Sei andato via Dalla tua terra E che tipo di storia Sei andato a pescare Negli Stati Uniti Ma come si diceva Ci sono delle storie Delle realtà Che a un certo punto Hai voglia di raccontare E penso Per chi scrive noir Le storie Nascono spesso Dalla cronaca Io provo A fare Un riferimento Alla memoria Di qualcuno Che vedo in sala Cioè di chi come me Sta veleggiando Verso i 60 Non so se ve lo ricordate Novembre 1978 Io ricordo benissimo Avevo ancora La televisione In bianco e nero Ma dalle riprese Dell'elicottero Fatte in Guiana Vedo Una specie di mosaico Per me erano Dei rettangolini In bianco e nero Ma capivo Che erano Dei colori E sembravano Dipingere Un quadro Un mosaico Un quadro impressionista Erano Le maglie Di 909 Cadaveri Il più grande Suicidio Di massa Della contemporaneità E quel fatto Per me Che avevo 14 anni E' rimasto lì E sono Quelle Quelle cose Che a un certo punto Se fai lo scrittore Devi tirare fuori Perché Io non credo molto Nei traumi infantili Non lo definirei Un trauma infantile Ma Un'immagine Scioccante Sull'umanità Un'idea Di umanità Che fino ad allora Non mi aveva sfiorato E che da allora in poi Ha fatto parte Del mio bagaglio Di narratore Raccontare la società E anche Raccontare Quelle idee Disturbanti Prima parlavi Di amnesia collettiva Riguardo a quello C'è stata Un'amnesia collettiva E certo Che quello E' un dramma americano Perché I 909 Suicidi Del tempio Del popolo Si sono uccisi In Guiana Ma venivano Tutti dagli Stati Uniti La più grande Strage di cittadini Americani Prima che arrivasse L'11 settembre 2001 E quindi Per cercare Le ragioni Di quella Strage Non potevo Che andare Negli Stati Uniti Perché Contrariamente Al cronista Che racconta Il fatto Quando uno scrittore Racconta La realtà 40 anni dopo 50 anni dopo Non può accontentarsi Di raccontare Il fatto Perché quello L'hanno già raccontato Tutti Devi andare A cercare Le radici Di quel fatto Devi andare A cercare L'humus Nel quale Quella pianta È cresciuta E per anni Non l'ho trovato Per anni Ho cercato Di raccontarla Questa storia Americana E non la trovavo Né come linguaggio Né come personaggi Perché poi Noi parliamo Di storie Ma noi Lavoriamo Con le parole E quindi Non puoi raccontare Una storia Così profondamente Americana Con un linguaggio Europeo È intervenuto Un elemento Cioè Ho insegnato Per un semestre All'università Di Denver In Colorado E Contrariamente Alle altre volte In cui avevo insegnato Negli Stati Uniti Sempre sulla East Coast Quindi Boston New York Non l'ho mai insegnato Però Conosco abbastanza bene Contrariamente A quelle università A quelle città Che mi presentavano Il lato più europeo Dell'America Il Colorado Mi ha presentato Il lato Più spaniante Dell'America profonda E Non so Quante Di quelle 900 vittime Provenissero Dal Colorado Ma sicuramente Provenivano Da un'America Che non è quella Che Incontriamo Andando a New York Non è quella Che incontriamo Andando a Boston Che è l'America Che ripete Gli stessi errori Da Cent'anni È l'America Che è un terzo mondo Dentro La sua stessa nazione L'America fatta Di immaginazioni Di povertà Culturale E di grandi Contrasti E quindi Il reverendo Jones Che è poi L'artefice Di questa strage Trova i suoi adepti In quell'America Profonda E io non potevo Che raccontarla Lì quella storia Ho voluto raccontarla Anche Con la contemporaneità Quindi c'è un thriller Non è solo La ricostruzione Di quella storia È un thriller E lì l'ho trovata Perché sono Andata a cercarla lì Poi sul linguaggio Invece Il mio Linguaggio americano È nato Tra Denver E Asti Ma questo è un altro discorso Senti Ma Visto che ti stai Raccontando Che ti sei Dovuto immergere Nell'humus Della storia Che stavi scrivendo Che visione Hai avuto Rispetto Alle persone Che decidono Di aderire Alle sette E negli Stati Uniti La figura Dei predicatori È una figura Che arriva fino ai nostri giorni No? Li vediamo anche in televisione E vediamo gente Che crede Alle cose Anche più Assurde E poi entra Entra dentro Queste sette Secondo te Che cosa porta Le persone A crederci Fino in fondo Prima parlavi Di una povertà Del territorio Probabilmente Problemi anche sociali Che portano Queste persone Ad aderire Ma Ti sei chiesto Che cosa ha spinto Queste persone A aderire A quello che diceva Il reverendo Beh più che Chiedermelo L'ho cercato Nei documenti Sulla vicenda Del reverendo Jones C'è una raccolta Di documenti Non più segretati C'è ancora Una parte segretata Ma Se volete La potete Acquistare In rete Sono 950 Pagine Di documenti E di Fatti misteriosi Per esempio Misteriosi Incidenti stradali Che coinvolgono I membri Della setta Badate La setta Del tempio Del popolo Nasce negli anni 50 E muore Tutta insieme Nel 1978 Quindi I crimini Di Jim Jones Si stratificano Per decenni Ma in quei documenti Ho anche trovato Le ragioni Per cui Aderivano Alla Alla setta E le ragioni Erano Il desiderio Di una liberazione Che non trovavano Nella quotidianità Jim Jones Era una persona Sadica E furba Allo stesso tempo Due cose Che possono Stare insieme Fin Dall'età Di vent'anni Lui Era Originario Dell'Indiana Quindi Si stabilisce Indianapolis E gira Nei quartieri Poveri Quindi Nei quartieri Neri Ispanici Di Indianapolis Lui Lui Che è La quintessenza Del bianco americano Madre gallese Padre irlandese Gira A consolare I capi famiglia I cui figli Sono stati picchiati O quelli Che Si sono trovati Una svastica Disegnata Sulla porta Ma nel frattempo Legge Mein Kampf Di Hitler Ma a queste persone Promette Quello che tutti i predicatori Ancora oggi Promettono Specie negli Stati Uniti Non la salvezza Del popolo di Dio Ma la salvezza Di chi aderisce A quella chiesa Io ho assistito A una A una messa A una funzione In cui una signora È salita Sul Sull'altare Sul pulpito E ha detto Io so che Dio è buono Perché La scorsa settimana C'è stato Un enorme incidente Qui vicino a Denver E Sono morte Quattro persone Io ero In quell'incidente E sono viva E quindi Dio è buono E come Però Ce ne erano altri quattro Dio non era così buono Con loro O non era lo stesso Dio Non era lo stesso Dio Il Dio buono Era il suo Perché lei Apparteneva a quella chiesa E allora I predicatori Che partono Quasi sempre Da una matrice cristiana Ma poi come Jim Jones Prendono Delle derive A un certo punto Jim Jones dice Non venite a Dio Venite a me Sono io Il vostro Dio Sono io Questi funzionano Perché Promettere La salvezza Del mondo È Troppo banale E poi Non è esclusivo È come quando Ti compri una borsetta O un paio di scarpe Se ce l'hanno tutti Non ti piace Se il Dio Che salva te Salva anche tutti gli altri Perché tu dovresti fare Uno sforzo in più Se tanto salva tutti gli altri Ma se è il tuo Dio Se è la tua chiesa Se lui Ti vede Perché fai Quello specifico sforzo Allora Sei disposta a tutto Perché tu Hai un Dio Tutto per te E funzionano Funzionano così I predicatori Allora Io posso dirvi Che Faita Eineken C'ha il suo Dio Personale Della scrittura Che lo ha accompagnato In questi anni In cui ha realizzato Borderless Perché Quanti anni Ci ha impiegato Per scriverlo Mi pare 13 stesure E quanti anni È difficile dirlo Quando comincio Perché questo Non posso mai Indicare precisamente Perché con tante Tante ricerche Che fai Quando cominci con una Non lo fai solamente Mirato su un Progetto Su un libro Lo fai in generale Fai anche Ricerche Molto più ampi Di quello Che può stare Dopo Tra le Su queste pagine Perché Ne approfitto Soprattutto io Imparando tanto E poi Hai già Cumuli Durante tutti gli anni Tutto il materiale Allora Però non hai paura In tanti anni Di perdere la fede Della scrittura E quindi Non riuscire a portare A termine Anzi Poi perderlo in mezzo Ma alla fine È sempre La scrittura Che salva Tutto Può essere Che arrivi Un momento Di narrare In modo Troppo complicato Una situazione Molto complessa Invece La complessità Deve essere narrata In modo Non complicato Lì Può essere Una difficoltà Per quello Mi servivano Tante Cesure Finché L'ho capito Dove E poi Povevo anche Eliminare Parecchio Del Di ricerche Che ho fatto Per esempio Lungo Il confine Turco-siriano Dove sono stato Oltre dieci anni fa Se Se lo facesse Oggi Potreste Tutti quanti Firmare L'appello Per la mia Liberazione Perché Non Sotto I condizioni Politiche Che ci sono Oggi Non puoi Farlo Anche se Le origini Che Arrivano Nelle zone Delle guerre Eccetera Sono sempre Arrivate E arrivano Avanti E questo Era Uno Degli Argomenti Che In Baudeless In Questo romanzo L'esportazione Delle nostre Armi In zone Di Guerre Allora Gettare Olio Nel fuoco E poi Avere Il confronto Con la gente Che fugge Delle guerre Allora Il nostro coinvolgimento Sia come Come singolo Come individuo Come anche Come società O nazione Un'unione Di nazioni Questo È fondamentale Per questo Se prima Parlavo Dell'epoca Parlo Anche Di queste Terre Qui Che Sono Quelli Che Dispongono Più Di Più Confini In Tutta L'Europa Di Più Confini Contrassi Contradizioni Ma Anche Ponti Il legame Di questi Alla fine Mi serviva Un'autodisciplina Ancora Molto più Elevata Del solito Per domare Questa materia E metterlo Tra le copertine Lui parlava Di confini Ovviamente Già il titolo Borderless Vi dà l'idea Delle zone Di confine Di questi paesi Che hanno Vari contatti Con altre situazioni Con altre comunità Con altre criminalità Con altre politiche E che ce l'hanno Non per un anno Due anni Ce l'hanno Magari per secoli E questi problemi Si spostano E continuano A essere presenti Questa storia Hai scelto Però di non raccontarla Assieme Al tuo Proteo Laurenti Che di solito È stato tuo compagno Nei precedenti romanzi Ma hai scelto Una nuova eroina Che si chiama Xenia Allora Già il nome Xenia Vuol dire Straniera In greco E quindi Non l'hai scelto A caso Che personaggio è E come L'hai raccontata Nella tua storia Devo purtroppo Contradirti Una cosa Proteo Laurenti Non è il mio Compagno L'avevo inventato Una volta Ma poi Si è sviluppato Per essere Il capo Allora Nel quinto romanzo Ho cercato di ucciderlo Non sono riuscito E cosa fa? Se vivi a tre Adesso basta Aprire gli occhi E guardare la società Se non riesci a uccidere Uno Cosa puoi fare? Le corna E La Xenia È un personaggio Che mi serviva Che ho cercato Per lungo E La materia È una Che proprio Non sarebbe stato Il protagonista Credibile Tramite la sua Competenza La competenza Da Vice Questore Aggiunto Commissario Alla Questura Perché Mi serviva Una 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 Persona Che Che Ha una competenza Molto più Ampia Lei Può Svolgere Le sue Attività Solamente Con un Grande Background Che ha Un legame Col Viminale Con Un Personaggio Lì Che Le copre Anche Quando fa Le cose Non solamente Legali Non segue Solamente La Legge E Mi serviva Questo Personaggio Estremo Che è Lei Che È Cresciuto Lungo Il confine Un'educazione Classica Plurilingue E Poi Malata Di una Clostrofobia Eclatante Che Sicuramente Nasce Nasce Con Lei Perché Lei È Natta Quasi Orfano Durante Il Terremoto In Friuli La Mamma Era La Bibliotecaria Di Gemona Leggeva Toromodi Di Sciascia In quel Momento In cui Corolava La Casa Era Nel Settimo Mese La Sulla Madre E I Primi Medici Che Sono Arrivati Medico Militare Che Poi Ha Effettuato Un Cesario D'urgenza E Nata La Piccola Mamma Si È Spenta Il Papà Invece Era Lo Spiro Di Gemona E L'hanno Trovato Tre Giorni Dopo Nell'Osteria Nei resti Ruri Dell'Osteria Dove Stava Per Giocare A Priscoli Con Gli Amici Come Ogni Sera La Xenia Poi Faceva Una Carriera Molto Impressionante Dopo E Essersi Decisa Di Seguire In Omaggio Al Pare Mai Conosciuto Di Diventare Poliziotta Poi È Stata La Mandata Al Sud Aveva Il Primo Commissariato A Ostia Cominciato Di Pulire Lì Finché Arriva Il Momento In Qui Lei Si Fa Ritrasferir Nel Cosiddetto Noioso Nord-Est Dove Non Capita Mai Niente Invece Lei Sta Nel Nido Delle Vespe Scopre Lì Le serve Proprio Di Andare Nelle Sue Indagini Poi Oltre I Confini In Qualsiasi Modo Oltre I Confini Per Portare Luce In Una Vicenda Che Legata Fino L'esportazione Dei gas Tossici Dalla Germania Nel 1916 Dove Sulla Zona Di Confine Era La Prima Esportazione Di Armi Chimici Dalla Germania Perché Quello Che Utilizzavano In Francia Utilizzavano Loro Lungo Verdan Utilizzavano Loro Invece Qui c'era Lo grido D'aiuto Dali Aliati Austriaci Che non Tenevano Più Il Confine E lì Serviva Questo Sostegno Tedesco Che hanno Mandato I gas Giù Nel 16 Diciamo Questo È L'argomento Che porta Avanti Fino Oggi Soprattutto Con Le Esportazioni Viettate Delle Armi Possono Essere Anche Quelli Che Sono Arrivati Nella Guerra Della Jugoslavia O Poi Quello Che È Successo Pochi Anni Fa Delle Armi Che Avevano Ancora Nei Magazzini Croati Su Una Decisione Americana Inglese E Francese Con L'esecuzione Tramite Servizi Segreti Tedeschi Che Hanno Portato Queste Armi Poi In Siria E Questo Diciamo È Una Materia Abbastanza Ampia Che Deve Stringere Dopo La Storia Ma Non Poi Non Raccontarlo In Un Ambiente Solo Perché C'è coinvolto Metà Mondo Se non Metà Dell'Europa E Il romanzo Di Heineken In realtà È un romanzo In movimento Che racconta Anche Più Territori Lui 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 Ci ha Spiegato Qual È Il passato Della Sua Eroina Che Viene Raccontato Nella Storia E Il passato Anche Di Elisabeth Che È La Protagonista Del romanzo Di Per Sinotto Ci viene Raccontato Poco Per volta Nel senso Che Noi Sappiamo Che Per Un certo Periodo Ha Fatto La Ballerina Nei Night Che È Stata Condannata Che Ha Questa Cavigliera Che La Tiene Controllata In Casa Ma Non Sappiamo Che Cosa C'è Stato Prima Perché È Arrivata Lì E Dove C'è Arrivata E Man mano Che La Vita E La Situazione Diventa Più Drammatica Per Lei I Lettori Scoprono Cose Che La Riguardano Allora Come Hai Scelto Elisabeth Come Protagonista Delle Vicende In Questo Presente Per Poter Poi Tornare A Un Passato Che Quello Drammatico Che Raccontavi Prima Ma La Scelta Del Personaggio In Taluni Casi È Naturale Cioè Viene Prima Il Personaggio E Poi La Storia In Questo Caso Era La Storia A Guidarmi Banalmente Elisabeth Doveva Essere Nata In Un Certo Periodo Perché Svelo Una Cosa Che È Facile Capire Elisabeth Ha avuto A che Vedere Qualche Cosa Con La Strage Della Guiana Quindi Non Poteva Essere Nata Dopo Il 78 Anzi Non Poteva Essere Nata Dopo Il 70 O Giù Di Lì Per Cui Un Po L'età Di Questo Personaggio La Caratterizzava E Poi Mi Sono Immaginato Quale Può Essere Stata La Vita Di Una Bambina Che Ha vissuto L'orrore Di Johnstown Da Bambina E Che Poi È Cresciuta Ed È Cresciuta In Un'America Impietosa Poi Magari Torniamo Anche qui Ai Servizi Segreti Perché L'America Non Era Del Tutto Estranea Alla Strage Di Johnstown Insomma Molti Sapevano E Molti Sapevano Cosa Avrebbe Potuto Accadere Cosa Sarebbe Potuto Accadere Quindi La Difficoltà Per lei Di Vivere In Un'America Che Se sei A un certo Livello Ti promuove Ma se sei Sotto Quello Livello Non ti Dà La Possibilità Di Emergere Mai Cioè Le tue Coordinate Sociali Ed Economiche Benché Continuino A presentarci Gli Stati Uniti Come il Paese Della Possibilità Il Sogno Americano I Dreamers Non è Vero Non è Vero Per il 99% Delle Persone Se Nasci Sotto Un Certo Livello Di Reddito Sotto Un Certo Livello Di Istruzione Puoi Fare Solo Certe Cose E Il Sogno Americano E Tanto Più Eclatante Perché Quell'1% Che ce la fa Fa Notizia Elisabeth Non appartiene A quell'1% Dalla Sua parte Ha la sua Bellezza E la sua Onestà E lei Esercita Il mestiere Di Antrenner Con molta Onestà Con molta Franchezza È una Persona Davvero Onesta Con Con le Altre Persone Anche se Lei dice Non si è mai Prostituita Ha sempre Concesso Favori Sessuali Una Sottile Una Sottile Differenza Ma Non del Tutto Capatinaria Per Arrivare A connotarla In questo Modo Io Elisabeth L'ho dovuta Conoscere Detto Così Non in Senso Biblico Esatto Anche se C'è la Bibbia L'Elisabeth Che ho Conosciuto Io In realtà È Una Cameriera Di Frisco Che È Il Paese Dove È Ambientata La Vicenda Ai Giorni Nostri Frisco È Un Ex Città Un Ex Villaggio Carovaniero Nelle Rocky Mountain A 3000 Metri Di Quota Ed è Quindi Alla Base Delle Montagne Perché Poi Le Montagne Vanno Su Fino Al 4002 Ecc È Un Paese Povero Rispetto Poi Quella Parte Del Colorado Abbastanza Ricca Perché C'è Aspen C'è Bracken Ridge Copper Mountain Le Italiano Nella Storia Ma Come vedete Io mi Mi Suoto Sempre Le Tasche Quando Arrivo In Un Posto Arrivo A Mangiare Lì E Non Perché Io Sia Un Fanatico Del Cibo Italiano All'estero Ma Perché O Mangiavi Nel Ristorante Italiano O Non Mangiavi Poso Il Passaporto Italiano Sul Tavolo Assieme Al Portafoglio E Lei È Stata Costretta A Inventarsi L'ha Mi Ha servito Una pizza Che Era Un'invenzione Di una pizza Italiana Perché Non Aveva Niente A che Vedere Con Una Pizza Ma Abbiamo Chiacchierato Un po' E Questo Personaggio Che Si Costruiva Un Passato Un Po' Di Fantasia Che Però Tirava Fuori Delle Storie Come Sei Capitata Qua Ma Una Lunga Storia E C Mi È Servito Per Per Creare Elisabeth Era Anche Un È Una Donna Molto Bella E Questo Ci sta Col Personaggio Quindi È Nata Così Elisabeth Esiste Davvero Ha Una Zia Che Stava A Roma Credo Che fosse L'unica Città Italiana Che Conosceva Quindi La Zia Immaginaria Di Questa Che Non Si Chiama Elisabeth È Romana Era Romana Adesso È Scomparsa Chiaramente La Elisabeth Serve Delle Pizze Immangiabili Però Il Suo Grande Desiderio È Essere Italiana Ecco Questo È Quello Che Anche Vattene Che Nè Di Essere Italiano Ma Non Serve Le Pizze Scrive Romanzi Lui Ha Trovato Un Altro Modo Per Stare Con Noi Allora Se Elisabeth Ve L'abbiamo Presentata Vi Abbiamo Presentato Anche Xenia Allora Feint Secondo Me Ha Avuto Il Grande Coraggio Di Regalarci Una Cattiva E Non Un Cattivo Cioè Una Donna Che Non Sembra Nemmeno Presa Dalle Storie Di 007 Perché È Un Cattivo Con La C Maiuscola Al Femminile Che Credo Che Qualsiasi Scrittore Vorrebbe Avere Sulla Pagina Per Raccontarlo E Per Odiarlo Assieme Ai Lettori Allora Perché Dovendo Fare Un Confronto Tra L'eroina E Il Male Hai Scelto Il Male Al Femminile E Non Al Maschile Penso Che Sia Fondamentale Che Io Non Odio Le Persone Odiabili Nel Libro Devo Volerli Tutti Bene Se No Non Posso Portarli Alla Fine Se No Comincio Valorizzare Penso Quello Deve Fare Il Lettore La Lettrice Io Non Ho Da Schierarmi Devo Volerli Bene Anche Se Una Una Grande Stronza Di cui Parli Un Personaggio Che Senza Scrupoli Peraltro Da Tre Generazioni Sempre Con Protagonisti Femminili In Quella Famiglia Si Sempre Approfittato Delle Guerre Adesso Cerca Lei Di Fare L'ultima Battaglia Per Espandere Ancora Di Più Il Suo Potere Vorrebbe Diventare La Segretaria Generale Dell Oxe Dell Organization For La Cooperazione E La Sicurezza In Europa Con Sede A Vienna E Quello Lascierebbe Ancora Di Più Libero Lo Spazio Per I Sporchi Affari Ma Poi C'è Un'altra Femmina Ancora Dentro Perché Sono Tre Non Solo La Xenia C'è C'è Una 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 Foto Reporter Una Giornalista Della Ex DDR Che Ha In Comune Con Il Suo Compagno Che È Nato A Pirano Sotto Jugoslavia Di Derivare Entrambi Di Paesi Che Oggi Non Esistono Più Un Cambiamento Europeo Dentro Che Non È Indifferente Ma Influisce Su Tutte Queste Vicende In Con cui Si Potevano Fare Grandi Affari Negli Ultimi Dicenni E Sono Stati Fatti Che Non Sono Finiti Magari Bello Sarebbe Ma Non È Uno Scatto Di Un Momento È Sempre Tutto Ha Una Storia Di Prima E Anche Una Consequenza Nel Dopo Nel Dopo E Questo Da Narare Soprattutto Di Argomenti Che Non Sono Mai Stati Narati Questo L'importante Mi Ricordo Che Ero In Un'altra Cosa A Parigi Per Parlare Con Un Testimone Del Tempo Che Stava Sotto Scotta Ancora Dopo 20 Anni E Che Metteva Luce Nel Ruolo Francese Nella Guerra Della Ex Yugoslavia Perché Tutti Quanti Noi Ci Ricordiamo Che Erano Più Filoserbi Che Tutti Gli Altri Veste Europei Invece C'era Un Primo Ministro Sloveno Che Doveva Dimettersi Dopo Quella Pubblicazione In un Altro Libro In un Altro Autore Ma Su Qui Abbiamo Fatto Le Ricerche Insieme Perché I Porti Adriatici Erano Tutti Sotto Soveglianza Di Due Nazioni Diverse Durante La Guerra Durante L'embargo Tranne Uno Capodistria Coppar Lì Erano Solamente I Francesi E Loro Hanno Mandato Una Nave Piena Di Armi Varie Volte Giù In Israele Ad Haifa Dove Di Sabl Come Sabbia Come Diventava Sabre E Tornava Capodistria Che è Stata Sotto La Guardia Solamente Dei Francesi Di Là Sono Stati Portati Le Armi Ai Croati Le Armi Francesi Ai Croati E Questo Primo Ministro Si Doveva Demettere Dopo Perché Quell'altra Pubblicazione È Stata Immediatamente Tradotta In Sloveno E In Croato E Purtroppo È Di Novo Primo Ministro Della Slovenia Adesso Ma Il Queste Sono Le Complessità Che Ci Determinano Sempre Finché Non Vengono Narrate Finché Non Vengono Raccontate Ognuno Può Sempre Dire Io Non Sapevo Invece Sapevamo E Potevamo Sapere Senti Ma Quanto Ti Stimola Scrivere Queste Storie Di Confine E Di Criminalità Che È Legata Ai Territori Ma Anche All'etnie Vivendo In Una Città Così Meticcia E Così Contaminata Come Trieste Io Mi Ricordo La Prima Vota Che Sono Andato A Trieste Ho Avuto L'onore Di Essere Ascoltato Che Lui Ha Fatto Il Porto Al Cimitero E Mi Ha Fatto Vedere Tutte Le Tombe Facendomi Vedere Come Trieste È Una Città Molto Complessa Perché Abitata Da Gente Che Arrivata Da Popolazioni Diverse E Che Ha Imparato Con Vivere Questo Tuo Romanzo Racconta Tante Popolazioni Tante Etnie E Come Passando Da Un Territorio All' Altro Si Possono Sviluppare Certi Tipi Di Violenze E Come Ci Sono Certe Persone Che Sperano Che I propri Crimini Passino E Scompaiano Solo Perché Hanno Passato Un Territorio Quando In realtà I Crimini Sono Gli Stessi Sia Che Sei In Francia Sia Che In Germania Sia Che In Italia Quindi C'è Una Tua Visione Sul Fatto Che Il Crimine Non Ha Un 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 Paese Di Identificazione Ma Può Diffondersi Obunque E Quando Gioca Su Più Territori Diventa In Qualche Modo Meno Identificabile Possiamo Dirlo Più Imprendibile E Come Se Volesse Spuggire Alla Memoria Proprio Perché Passa Da Una Pelle All' Altra E Da Una Barriera E Da Un Confine All' Altro I Credo Che Romano